Nuova settimana, nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con gli autori, è il caso di dire. Siamo in libreria ma quelli che incontreremo sono gli autori dei diversi libri che vi presenteremo nella puntata di oggi. Partiamo, lo facciamo sempre, come ormai tradizione, con un libro dedicato al Santo di Pietrelcina. Questa volta dedicato a Padre Pio ma attraverso una figura a lui molto cara, un'altra figura di Cappuccino, Fra Daniele Natale. Una delle più belle figure di Frate Cappuccino, edizioni Padre Pio e Pietrelcina, firmato da Gennaro Preziuso. Approfittiamo anche per presentare questo libro e ricordare il collega Gennaro Preziuso per tanti anni a servizio della rivista dei Frati Cappuccini, voce di Padre Pio, di cui era redattore. Ma insieme alla rivista curava anche tante altre cose, realtà, ecco, che orbitavano intorno al convento e a voce di Padre Pio. Leggiamo un passaggio della figura di uno dei tanti episodi legati a Padre Pio tramite la figura di Fra Daniele Natale. Era il 22 gennaio del 1952, si festeggiava il cinquantesimo anniversario della vestizione religiosa di Padre Pio. E il superiore del convento all'epoca, Fra Raffaele da Sant'Elia Pianisi, pensò di affidare a Fra Daniele, che era portinaio, telefonista, sacrista, questuante, ma anche cuoco, la preparazione del pranzo per la bella ricorrenza. E Fra Daniele naturalmente non se lo fece ripetere due volte, fu felice di fare l'obbedienza e soprattutto di cogliere l'occasione per dimostrare al venerato padre spirituale, quindi Padre Pio, tutta la riconoscenza per il bene ricevuto. E al refettorio, quindi momento del pranzo, presenti in quanto invitati il ministro generale dell'ordine, è giunto da Roma con alcuni amici, il ministro provinciale, diversi confratelli di altri conventi, Zimichele, il fratello di Padre Pio, e il suo genero Mario Pennelli. C'era anche il celebre tenore Benamino Gigli, che con la sua voce sublime cantò la canzone mamma, suscitando l'unanime commozione. Le pietanze erano tutte molto squisite, tant'è che, pur non apprezzate da tutti, anche da Padre Pio, che si avvicinò a Fra Daniele e disse «Oaglio, ma tu dove hai imparato a cucinare così bene e a preparare dei piatti così squisiti?» Fra Daniele, arrossendo con umiltà, rispose «Padre, io li preparo sì, ma vicino a me ci sono gli angeli che mi aiutano». «Ho capito», disse il padre. «Questo volevo sentirti dire». E prima che il pranzo finisse, Padre Pio si alzò, ringraziò i presenti e si accinse a lasciare il refettorio. Fra Daniele, dispiaciuto e sorpreso, lo raggiunse e disse «Padre, ma adesso che viene il bello, ve ne dovete andare?» E Padre Pio rispose «Eh, figlio mio, mi sono stancato, vado sopra a gettarmi un po' sulla sedia». «Ma almeno», disse Fra Daniele, «prima di andare via, benedite il contenuto di queste due zuppiere, c'erano due tegami di terracotta». E Padre Pio disse «A patto, che mi fai vedere cosa c'è dentro?» E Fra Daniele rispose «No, prima la benedizione padre e poi cercò di insistere e contemporaneamente tolse, mentre insisteva, tolse il coperchio a uno di essi, che conteneva cinque chili di confetti. Padre Pio fece il segno di croce su di essi, vi passo la mano quasi per toccarli e chiese «Posso prenderne un po'?» E Fra Daniele rispose «Sono tutti vostri». Il padre ne prese una manciata e la depose nella tasca dell'abito. E poi Fra Daniele approfittò di quell'attimo per porgere a Padre Pio un'altra zuppiera. Questa volta Padre Pio, senza dire nulla, la benedisse. E poi Fra Daniele tolse subito il coperchio da quel contenitore. Dopo un attimo di esitazione, tra la sorpresa e la meraviglia di tutti, spiccarono il volo una cinquantina di uccellini di varie specie, riempiendo di cinque tii il refettorio. «Ognuno di loro aveva legato ad una zampetta un bigliettino colorato con scritte diverse. Viva San Francesco, viva Padre Pio, viva il sacerdozio, viva i frati Cappuccini». E poi Padre Pio chiese a Fra Daniele come avesse fatto e Fra Daniele rispose «Padre, sono sentimenti filiali e di amore. Poi anche gli uccellini avranno la loro libertà». Quindi sarebbero stati lasciati liberi. Quindi davvero una bella festa, sicuramente dei sentimenti davvero di grande fraternità e grazia a quelli vissuti all'interno del refettorio. In quell'occasione importante, i cinquant'anni dalla vestizione religiosa del Santo di Pietrelcina, era il 22 gennaio del 1952. Questi e altri ricordi, aneddoti sulla vita di Fra Daniele Natale, ma naturalmente legata e intrecciata a quella di Padre Pio, li trovate in questo libro. Fra Daniele, una delle figure più belle di Fra Cappuccino, e in quarta di copertina una bella immagine di Fra Daniele. Questo è un ritratto firmato dal maestro Antonio Ciccone. Gesù è vivo, vuoi incontrarlo? Beh, questa domanda non la faccio io, ma a farla è Don Oreste Benzi. Don Oreste Benzi, eccolo qua, una bella immagine del sacerdote riminese in copertina. Questo libro, intitolato proprio così, Gesù è vivo, vuoi incontrarlo? Edito da sempre. E ricordiamo Don Oreste Benzi, nel 1968 è stato, ha dato vita, assieme ad altri sacerdoti, alla parrocchia La Resurrezione, nella periferia riminese, di cui è stato parroco per 32 anni, e in contemporanea anche fondatore dell'Associazione della Comunità Papa Giovanni XXIII, diventata poi associazione internazionale. È stato definito, pensate, da Papa Benedetto XVI, Don Oreste Benzi, infaticabile apostolo della carità, proprio per la sua dedizione totale nei confronti dei poveri e degli oppressi. Tanti libri pubblicati con sempre e, in particolare, questo libro raccoglie degli incontri della fede, tenuti, una rubrica tenuta per quattro anni, sempre da Don Oreste Benzi, sul mensile sempre, ed è diventata un libro attraverso il quale, appunto, l'infaticabile apostolo della carità continua, ancora oggi, con temi davvero attuali, a proporci un cammino entusiasmante, un incontro reale con quel Gesù che ci guarisce da tutti i mali. Accompagnati da Don Oreste, scopriamo la straordinaria opportunità offerta dei sacramenti e sentiamo il fascino delle dieci parole d'amore sussurrate da Dio al cuore dei figli. Due originalità in comunione, così scrive Don Oreste Benzi nel capitolo I segni, perché in questo paragrafo sottolinea l'importanza della famiglia, dell'educazione e del rapporto genitori-figli, ma anche del rapporto moglie e marito, che dice sono due originalità in comunione. Ognuno deve garantire ed aiutare la crescita delle rispettive persone in tutte le capacità e qualità specifiche. Il segreto desiderio intimo e profondo di uno sposo vero e serio è che la propria consorte raggiunga la pienezza. Egli si aspetta ogni giorno di capire, ad accogliere l'apirsi di quel mistero che è la sua sposa, la quale rivela sempre nuove qualità e valori e riserva sorprese stupende e positive che suscitano il suo stupore e lo riempiono di gioia. La moglie legge negli occhi di suo marito la bellezza e le qualità della propria persona e ne gioisce senza fine. Si accetta perché è accettata. La sposa che ama il marito desidera che egli raggiunga la pienezza e contempla l'apirsi di quel mistero che è il suo uomo. Ne gioisce e ringrazia il Signore. Lo sposo vede negli occhi della sua sposa la grandezza e la bellezza della propria persona. Questo è giusto un passaggio, no? Di quelle che sono le tante catechesi, ecco, possiamo chiamarle così, riportate in questo libro, firmato da Don Oreste Benzi, che ricordiamo davvero con grande, grande piacere e affetto, indimenticato e indimenticabile. Le sue opere, tra cui appunto la comunità Giovanni XXIII, continuano a camminare sulle gambe dei suoi collaboratori. Gesù è vivo, vuoi incontrarlo. Questo libro è edito da sempre Comunicazione. Dal libro di Don Oreste Benzi, quindi con riferimento alla famiglia e figli, rapporto marito-moglie, passiamo ad un altro libro, edito dalle Paoline, a cura dell'ufficio della pastorale familiare della diocesi di Perugia, intitolato Tessitori di felicità, chiamati a vivere il sacramento del matrimonio. E in questo libro, come appunto leggiamo nella introduzione, è un cammino, una sorta di indicazioni per accompagnare le coppie al matrimonio, e che significa anche avere a che fare con situazioni complesse. Prendiamo come spunto un capitolo centrale in cui si fa riferimento alla virtù della tenerezza in Papa Francesco, una delle prime parole, uno dei primi gesti, che poi ha caratterizzato, e sta caratterizzando tuttora, il pontificato di Papa Francesco, la virtù della tenerezza, appunto. Infatti, fin dalla sua prima omelia, che si è tenuta il 19 marzo del 2013, in occasione della giornata della solennità di San Francesco, Papa Francesco ha evidenziato che la custodia dell'altro, l'accoglienza, la compassione, il donarsi, sono caratteristiche proprie del linguaggio della tenerezza. In quanto sposi nel Signore, i coniugi sono stati chiamati a prendersi cura l'uno dell'altro. E l'importanza anche di imparare il linguaggio della tenerezza. Il dottor Gary Chapman, in un libro che probabilmente abbiamo anche presentato, spiega che ci sono almeno cinque modi per dire ti amo alla persona amata, attraverso parole di conferma e di fiducia, condividendo momenti particolari della vita, offrendo dei doni, mettendosi a servizio dell'altro tramite tutto il nostro corpo. Tutti questi modi di comunicare sono fondamentali per sentirsi amati e non dovrebbero mai mancare nella relazione di coppia. È un libro che è sicuramente un utile strumento per i formatori, per coloro di quali sono chiamati ad accompagnare le coppie verso il sagramento del matrimonio. Ma perché no? È anche un libro che la coppia può, come dire, avere in casa per andare a prendere spunto, non dimenticarsi di essere, come ha detto Donoreste Benzi, due originalità chiamate a fare un pezzetto di strada insieme. Questo libro si intitola Tessitori di felicità ed è edito dalle Paoline. Chiudiamo come sempre con una bella storia che nasconde anche una morale. Cerchi nell'acqua, piccole storie per l'anima di Bruno Ferrero, edito da LDC. Tante belle storie raccontate da Bruno Ferrero. La storia che ho scelto per voi questa settimana si intitola Il problema. Un buon ebreo arrivò correndo dal suo rabbino ed esclamò «Rabbì, è successa una cosa terribile. Mio figlio vuole sposare una cristiana». «Tuo figlio», rispose il rabbino, «guarda me e mio figlio, io sono il capo della comunità. Guardano a me e la mia famiglia e vendono in me un esempio. E mio figlio vuole anche lui sposare una cristiana e farsi battezzare». Il buon ebreo, tacque per un momento, confuso, poi disse «tutti vengono da te con i loro problemi, ma tu cosa fai quando hai un problema così grosso? A chi ti rivolgi? E cosa vuoi che faccia? Mi sono rivolto a Dio. E che cosa ti ha detto Dio? Dio mi ha detto «Tuo figlio, guarda un po' il mio». Il mistero dell'incarnazione è tutto qui. Dio che dice anch'io». Ecco, è una storia davvero che non ha bisogno di spiegazioni. Quella di Bruno Ferrero tratta da questo libro «Cerchi nell'acqua». Piccole storie per l'anima edito dalla LDC. Per rivedere questa puntata ma anche quelle già andate in onda vi rimando come sempre al nostro canale YouTube Padre Pio TV. Grazie a tutti per essere stati con noi. Alla prossima settimana. Grazie a tutti per aver guardato il nostro canale.